Quando utilizziamo Beyond è fondamentale analizzare le prestazioni delle nostre inserzioni. Per farlo possiamo sfruttare il pannello di controllo Insight. In questo pannello possiamo analizzare le prestazioni di specifici gruppi di inserzioni utilizzando i filtri disponibili. In questo caso dobbiamo anche ricordarci di togliere la pubblicazione dei prezzi, disattivata, in modo da avere solamente le inserzioni con i prezzi attivi. E possiamo anche selezionare qua un periodo di tempo specifico. In questo pannello avremo accesso a tutte le metriche chiave, per esempio il ricavo totale, il refpan, l'occupazione modificata, la tariffa giornaliera media, e potremo confrontare questi dati con lo stesso periodo dell'anno precedente o con il totale dell'anno passato. Sarà inoltre possibile visualizzare il punteggio del portafoglio, che rappresenta una media di tutti i nostri annunci, per capire come ci stiamo comportando in termini di occupazione rispetto al mercato. Se necessario, inoltre, possiamo anche impostare un obiettivo di ricavo, modificabile in qualsiasi momento, per modificare l'andamento delle entrate. Tutti questi dati sono visualizzabili anche su base giornaliera, mensile o settimanale. In particolare, possiamo consultare dei grafici come il ricavo totale, l'occupazione totale, la tariffa giornaliera media, ecc. Ogni grafico mostrerà le metriche per l'anno in corso e per lo stesso periodo dell'anno scorso, permettendoci di capire come stiamo andando rispetto al totale raggiunto l'anno scorso. È possibile anche visualizzare questi dati confrontandoli con periodi di tre anni fa o due anni fa. Per questo grafico potremmo anche utilizzare la visualizzazione a lente, che ci consentirà di esaminare i dettagli di ciascuna inserzione con le relative metriche chiave. In questo modo potremo facilmente individuare quali inserzioni stanno performando peggio, ad esempio in termini di entrate o di altre metriche su cui vogliamo concentrarci. Possiamo anche esportare i dati in formato CSV. Se desideriamo approfondire l'analisi delle prenotazioni ricevute, possiamo utilizzare la sezione per data di prenotazione, che ci permetterà di controllare il ritmo delle prenotazioni per i nostri annunci. Il nostro consiglio è quello di selezionare l'anno solare e visualizzare i dati su base settimanale, quindi scegliendo un giorno della settimana, in modo da poter vedere, per esempio, le entrate generate in un giorno specifico, un numero di prenotazioni ricevute in una settimana. Questo ci aiuterà a capire se stiamo rallentando in termini di prenotazioni o se al contrario abbiamo avuto una settimana particolarmente positiva. Possiamo anche controllare quando sono state effettuate queste prenotazioni selezionando per data di check-in. Per concludere, raccomandiamo di analizzare le performance delle nostre inserzioni ogni settimana o ogni due settimane utilizzando il pannello Insight.